Ben ritornato al Miramonti L'Alcro, io sono sempre Philippe Leveglier Adesso vi farò una capessante, una mariniera di verdura, piselli e aspargi con pomodori Allora, abbiamo già preparato la mariniera un composto di pomodori, piselli e fare le capessante le abbiamo cotte all'unilaterale in una parte sola, le abbiamo tenuto belle umide abbiamo fatto, aggiungo la tempura di aspargi un po' di pomodori secchi un po' di fave e piselli le condiamo con un filo di forno ok il piatto è finito, buon appetito!